È Civitella a dare il via alle serate che combineranno stelle e calici di vino in vista della notte di San Lorenzo. Nel suggestivo scenario della Rocca di Civitella torna Calici Sotto la Torre sabato 8 agosto. Sabato 8 agosto a Civitella nel magnifico borgo medievale di Civitella torna l'appuntamento Calici Sotto la Torre, come dicevi, in cui oltre a poter degustare ottimi vini della zona e non vini d'ocche, sarà una serata all'insegna dell'enogastronomia, delle nostre tipicità del territorio. Quindi in un bellissimo borgo potrete fare una libera passeggiata degustando vino e cibo tradizionale toscano e aretino. Tutto questo è arricchito da un intrattenimento musicale del gruppo Archimossi e un appuntamento all'interno del Festival delle Musiche che è un festival itinerante su tutta la Val di Chiana. Sabato saremo appunto a Civitella e per concludere la serata, meteo permettendo, ma mi sembra che vada tutto per il meglio, all'interno della Rocca potremo ammirare anche le stelle con un gruppo di astronomi che potranno attraverso i loro strumenti farci vedere appunto il bellissimo cielo dentro la Rocca. Seguiranno stavolta però il 10 di agosto le altre iniziative un po' in tutta la provincia. In primis in piazza Sant'Agostino ad Arezzo con un messaggio per le stelle. La serata si aprirà alle 21 con l'animazione di Andrea Fognani della Carta e lo show musicale di Enzo Scartoni. Alle 22 lancio collettivo delle Lanterne dei Desideri. Negozi aperti fino alla mezzanotte.